Siamo con Raffaele Meola, responsabile amministrativo ambito Agropoli per quanto riguarda le vaccinazioni. Raffaele, possiamo tracciare un bilancio di come sta proseguendo la somministrazione soprattutto della terza dose nel distritto 70? La somministrazione della terza dose sta procedendo non bene ma benissimo. Stiamo andando a circa 4.500 vaccinazioni a settimana tra i punti vaccinali di Agropoli, Santa Maria di Castellabate e Acciaroli. In particolare da metà dicembre abbiamo potenziato l'offerta vaccinale restando aperti praticamente tutti i giorni su Agropoli e dalle due alle tre volte a settimana ad Acciaroli e Santa Maria di Castellabate. Procedendo ancora per convocazioni, dato che la platea da convocare è ancora molto ampia e questo non ci consente di organizzare in sicurezza degli open day. Però nonostante questo, ripeto, siamo sulle 500 vaccinazioni giornaline ad Agropoli e sulle 354 nei punti più piccoli. Oltre a questo stiamo andando sui singoli comuni, soprattutto quelli più interni, per portare la vaccinazione quando più vicino presso le persone in modo da arrecare meno disagio possibile per raggiungere i centri vaccinali. In particolare siamo stati a rutino la scorsa settimana, mercoledì scorso abbiamo organizzato una giornata per il comune di Ogliastro Cilento, sabato saremo a Pier di Fumo e anche con gli altri comuni ci stiamo organizzando affinché tutti possano vaccinarsi col minor disagio possibile. Con questo ritmo contiamo di arrivare più o meno alla metà di febbraio con la platea dei vaccinabili quasi del tutto esaurita, quindi un altro poco di pazienza e finalmente avremo un'altissima percentuale anche di terze dosi. Per quanto riguarda invece la fascia pediatrica sappiamo che da diverse settimane sono iniziate le vaccinazioni anche per i bambini. Ci puoi aggiornare anche su questo aspetto, sappiamo che sabato è previsto proprio qui all'ospedale di Agropoli la somministrazione delle dosi Pfizer, come avverrà e poi se ci puoi aggiornare anche sul numero di quanti bambini nell'ambito Agropoli hanno effettuato la vaccinazione? Sì, anche per quanto riguarda le vaccinazioni pediatriche stiamo accelerando. Infatti, come già hai detto tu, sabato è prevista una giornata intera dedicata alle vaccinazioni più piccole, ovvero dalla fascia dai 5 agli 11 anni, presso l'ospedale civile di Agropoli dalle 9 di mattina fino alle 18. effettueremo circa 300-350 vaccinazioni e un'altra giornata è prevista martedì 18 di pomeriggio sempre in ospedale. Con questo andremo a vaccinare tutti i bambini presenti sulla piattaforma in modo tale da non lasciare nessuno indietro. Da inizio vaccinazione ad oggi fino a martedì 18 arriveremo intorno ai 500-550 bambini vaccinati. Dopo un inizio con un poco di diffidenza da parte dei genitori nell'iscrivere i più piccoli in piattaforma, stiamo osservando che da inizio anno queste resistenze si stanno un po' superando e i piccoli vengono iscritti più facilmente in piattaforma in maggior numero. Quindi anche qui dedicheremo presumibilmente dalle due o tre giornate a settimana in base agli iscritti sulla piattaforma. Che ricordo è quella regionale, la stessa per gli adulti. I genitori devono iscrivere i loro piccoli lì e verranno convocati da noi immediatamente, più o meno, presto all'ospedale civile di Agropoli. Per quanto riguarda le terze dosi non c'è bisogno di prenotazione ma saremo noi a convocare le persone poiché avendo effettuato già le altre due dosi sono già in piattaforma. Quindi attendete la convocazione, come ho già detto per fine gennaio massimo metà febbraio contiamo di aver convocato tutte le persone presenti in piattaforma. Invece per quanto riguarda i bambini e per chi ancora non ha effettuato la prima dose bisogna registrarsi in piattaforma e saremo noi a convocare.